La difficoltà di reperimento del personale nel 2022 ha riguardato il 40% delle assunzioni. Tenderà ad aumentare ulteriormente anche per l'accelerazione della domanda attesa come effetto degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con i dati del sistema informativo Excelsior, Union Camere ha stimato i costi per i diversi settori dell'economia derivanti dal minor valore aggiunto prodotto a causa dell'inserimento ritardato delle professioni difficili da trovare sul mercato del lavoro. Considerando una tempistica di difficoltà di reperimento compresa tra 2 e 12 mesi, si è stimata per il 2022 una perdita di valore aggiunto di 37,7 miliardi, pari al 3,1% di quanto generato complessivamente dalle filiere dell'industria e dei servizi inserite nell'indagine. Il costo del mancato incontro tra domanda e offerta rischia di aumentare nei prossimi anni anche a causa dei trend che stanno già cambiando il mercato del lavoro. La transizione digitale è green e l'andamento demografico. È atteso infatti un aumento dei flussi pensionistici e quindi delle uscite dal mercato del lavoro, oltre a una riduzione del numero di persone in età lavorativa per l'invecchiamento della popolazione.